Il Circolo Ambiente, Territorio e Beni Comuni dicono al progetto, così come è stato concepito della variante alla Statale 17 tra San Pio delle Camere e San Gregorio, opera che dovrebbe essere realizzata da ANAS e la cui pubblicazione del progetto è di fine aprile. Domani scadono i termini per fare le osservazioni e il Circolo spinge i comuni ad ascoltare il territorio. Un progetto troppo sovradimensionato rispetto alle reali esigenze di traffico, il Circolo già ha presentato delle osservazioni di carattere generali. Finalmente viene ripercorso il tracciato esistente, però quello che ci preoccupa è il sovradimensionamento degli svincoli, che non sono omogenei con quanto è stato fatto, cioè gli svincoli ovoidali della piana di Navelli, quelli un po' sbaricentrati di sotto alla piana del Tirino, qui vengono fatti dei veri e propri arzicocoli di strade che non permettono di entrare razionalmente nelle frazioni e che soprattutto consumano territorio agricolo a non finire. Voi avete già presentato delle osservazioni di carattere generale, però spingete anche i comuni a fare la parte propria? Dato che su queste opere statali ci serve l'intesa con la Regione e poi i comuni devono deliberare, abbiamo posto il problema di una riflessione seria su questi da parte dei comuni e della Regione, in modo che facciano proprie le nostre osservazioni e le portino al tavolo della conferenza di servizio.